Sorpresi lungo l'autostrada del sole con otto gattini da piazzare sul mercato nero trasportati all'interno di un minibus. A fermare e denunciare la coppia, un uomo e una donna di 51 anni, entrambi originari dell'Ucraina, una pattuglia della polizia stradale della sottosezione di Battifolle. Al momento del controllo all'altezza di Arezzo, infatti, i poliziotti hanno sentito i miagolii disperati degli animali di neanche tre mesi. I gatti di razza British Shorter erano in cattive condizioni e per nessuno di loro la documentazione sanitaria era completa. Gli investigatori hanno poi accertato che due malfattori erano entrati in Italia da Trieste al fine di piazzare i gattini sul mercato nero e ricavarne quasi 6.000 euro. Ma i loro piani sono saltati, tant'è che la postrada gli ha tolto i gattini per affidarli ai veterinari dell'asla di Arezzo, denunciando i due per traffico illecito e maltrattamento di animali. I micini avranno adesso un futuro migliore e appena si rimetteranno potranno farsi coccolare da chi vorrà dare loro tanto affetto. Alla caserma di Battifolle già fioccano, infatti, le prime richieste.